buon pomeriggio care amiche e cari amici come come mi piace questa location col con il piatto del decimo scudetto e lo spazio là come mi piace speriamo di qua le finale di coppa di là il decimo scudetto una stella è la location mia preferita in casa mia questa buon pomeriggio dicevo vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 ho iniziato anche oggi con tum 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 perché nella notte un tum 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 è stato quasi quasi ha avuto il buon esito questo tum 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 quasi perché e non avevamo dubbi se un presidente si sposta dall'argentina per venire a milano e a parlare con i dirigenti del milan di marco pellegrino non saranno un milione o due milioni il presidente è venuto qui per è venuto qui per chiudere stanotte secondo i colleghi gianluca di marzio i colleghi di milan news stanotte si è lavorato si è limato e adesso siamo arrivati ormai quasi alla conclusione 3 milioni di euro più 2 di bonus ma avete notato che la parola la percentuale alla vendita è una parola che attira molto diciamo attira molto nella trattativa i club che devono vendere e in effetti anche sebastian ordonez il presidente del platense presidente di marco pellegrino i due milioni di bonus sì era partito milan avete notato i dirigenti del milan sono tostonie quando danno quando studiano una 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 quotazione e decidono che quella quotazione sia la quotazione che secondo lui secondo loro sia la più corretta anche per eventuali futuri per non avere i problemi di orighi per esempio è difficile difficile che mollino quando trovano un avversario duro come loro vedi il presidente del porto 30 milioni per taremi capiscono subito annusano l'aria e fa e se ne vanno e come tante volte gli animali no hanno hanno un obiettivo i predatori hanno mirato una vittima poi quando questo video no che questa vittima è tosta fan finta di niente e se ne vanno e lo stesso i dirigenti del milan vuol dire che il presidente ordonez non è che vuol dire che non sia tosto il minar ha ritenuto opportuno per un ragazzo che gioca nel platense un giocatore interessante che è il quinto difensore almeno in partenza di non investire delle cifre straordinarie 3 milioni più 2 di bonus e più un diritto alla alla futura rivendita per il milan è la cifra giusta il voleva magari 7 8 milioni il presidente del della squadra del platense poi alla fine ha capito che tutto sommato i due di bonus magari non saranno facile ha dovuto mollare da 7 8 è andato a 5 il milan da 3 è arrivato a 5 a bonus col bonus e allora come vi ho detto qualche video fa e me ne vanto eravamo al nono siamo arrivati al nono vi ho detto culierakis lasciatelo sembrava avesse fosse andato davanti e poi mi han detto trapelato dal milan guarda che per tanti motivi forse per noi è meglio l'argentino e vi ho detto puntiamo l'argentino ma 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 parliamo anche dell'attaccante prima però voglio ricordarvi che oggi ci sarà la conferenza stampa la prima alla vigilia di una partita di campionato di pioli la manderemo quasi integrale nel video delle 6 e mezzo con un con delle 6 6 e mezzo 7 con un commento alla giornata e al poi un commento alla conferenza stampa come tradizione così sentirete mentre siete in macchina tornate dalle vacanze o siete a casa e avete perso la conferenza stampa avete sul mio canale youtube la conferenza stampa non vide ovviamente non si può audio di stefano pioli e quindi è il solito servizio che diamo uno stefano pioli e poi mi attacco a questo per parlare poi dell'attaccante che sta lavorando sta lavorando forte con ocafor sta lavorando forte con ocafor per per non trasformarlo per creare per far sì che ci sia un ocafor più mentalmente concettualmente più forte anche in come centro come centro avanti perché abbiamo visto sia nella svizzera ma soprattutto nel salisburgo se andate a vedere le i campetti come si dice c'è un giocatore dietro le due punte e le due punte partendo da sinistra è ocafor l'anno scorso e quindi ocafor è il giocatore che gli piace partire ma se deve fare deve lavorare in area non mi sembra quello come caratteristiche fisiche che sta là a sportellare gomitare lavorare però ci sono tanti modi di essere un centravanti d'area c'è anche il centravanti d'area rapido non c'è solo il centravanti rapido e alla giru alla ibrahimovic o alla lukaku o alla si avete bene alla lukaku è che bravi forti in area a parte il fatto che lukaku è bravo anche scatto e fa gol però anche perché io ricordo i due gol che ha realizzato a donna ruma due gol strao non sarà quel lukaku lì però dio mio quei due tiri dal limite con donna ruma che se li visti passare una destra a sinistra tanta roba perché finisco sempre lì ma perché finisco sempre lì parliamo del centravanti io ormai pennarello dovrebbe essere dove secondo me dovete comprarne un altro perché ne abbiamo cancellati tanti non so che soddisfazione vi sia quei bei pennarelloni grossi che uno si arrabbia molto perché o c'ha il figlio o si è dimenticato lui costa già una cifra poi c'è il cappuccio che che cade magari dentro nel portapenne apri provi ed è tutto secco momento non drammatico antipatico della nostra vita quindi ricordatevi sempre di mettere il cappuccino il cappuccino e allora avete già cancellati tanti io continuo a leggere due nomi io continuo a dirvi uno dei due abbiamo già cancellato cane e vi ho dato che mi avete dato retta anche broia datemi retta poi mi sbaglierò non c'è problema non è la prima volta che prendo le vostre i vostri sarcasmi o le vostre eronie fa parte del gioco non ne ho presi tanti quest'anno però e broia se non volete proprio usare il pennarellone grosso usate quello a punta fine ma in ogni caso tirate su una riga broia mi ha detto me l'ha detto il milan che non è proprio l'obiettivo come mi aveva detto che non era cane tanto per dire mi arriva dal cessi questa cosa non lo voglio prestare ci sono delle delle squadre interessate della premier league quindi broia lasciatelo stare è chiaro che voi mi chiedete si ma chi si ma chi si ma chi in questo momento credo che anche il milan non abbia i chi si ma chi belli sicuri anche il milan non ha i si ma chi e quindi sta lavorando sta lavorando paremi che oltretutto il milan perderebbe un mese e mezzo è perché poi c'è la coppa d'asia non c'è solo la coppa d'africa e quindi andrà con l'iran daremi ma se non molla il presidente del porto mi sembra difficile colombo va via qualcuno dice che addirittura sarebbero previste le visite mediche entro mercoledì io mi permetto solo di dubitare per un motivo molto chiaro perché il milan ha detto a colombo va benissimo andare a monza diventi in una squadra seria con un allenatore bravo con dei dirigenti straordinari e ma e però dobbiamo averne un altro prima di lasciare andare via te d'accordo che pioli lavora su ocafor ma non è sufficiente ovviamente e allora e allora non so se entro mercoledì il milan avrà l'altro attaccante potrei scommettere anche una coca cola con voi tutti mi costa come dovessimo andare ad atlanta nella fabbrica della coca cola che ho visitato quando il milan ha giocato ad atlanta ho visitato anche la fabbrica il museo della coca cola ecco se vado a prendere tutte le bottigliette della coca cola mi costa una cifra questa scommessa con tutti voi però che entro mercoledì faccia le visite colombo può darsi ma che il milan abbia un attaccante già pronto entro mercoledì uno potrebbe dirmi ma come ce l'ha orighi non voglio pensare non perché ce l'abbia su con orighi che abbia qualcosa contro orighi ma non voglio pensare che se il milan avesse paventato anche l'ipotesi perché ormai che orighi non fosse facile da vendere l'abbiamo capito dopo poco di calcio mercato dopo pochi giorni quindi qualcuno mi può dire è però magari un mese fa nessuno ipotizzava che fosse così duro venderlo no no abbiamo tutti ipotizzato subito quindi a maggior ragione mi sembra strano che il milan lo metta a parte già da un mese sapendo quanto sia difficile venderlo e poi me lo mette terza punta quando ormai è fuorissimo dal progetto mi sembra strano può essere però esprimerei la mia esprimo adesso la mia perplessità la esprimerei anche in quel nel caso che orighi diventi la terza punta per mancanza di di altri giocatori perché magari ocafor risponde pienamente alle esigenze di più tutto può essere però io conosciamo gli ambienti se tutto va bene siamo i più bravi più intelligenti ma se poi qualcosa scalchina voce del verbo scalchignare vuol dire traballare subito arrivano quelli che dicono a grande campagna acquisti poi manca l'attaccante cosa le avete fatta la campagna acquisti quindi attenzione perché bisogna immaginare in tutti i sensi il futuro quindi mi auguro che milan prende la terza punta vuole la terza punta c'è la figura di asmoon come alternativa quello anche il milan per adesso ha detto no quello però lo teniamo ancora un po vivo e poi ce n'è uno e fino a quando romello lucaco non ha firmato con un'altra squadra con un altro club lasciatemi credere e lo dirò sempre se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi ballicchiando a ballato dall'emozione anche il trabattello anche il tre piedi a ballato dall'emozione iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegati tre piedi non traballare perché si è detto il nome lucaco grazie a tutti